B e Dynamic Race LF. Seconda fila per Dea Caff, Daniel E1SM, Dynamite Bonest e Diadema Dinò. Va prendendo corpo l'allineamento. A chiusura delle ali, Diana Dorre e David Aggetta le prese. Alla seconda fila Diadema Dinò in anticipo su dominio B. Posizioni che si delineano. Dior degli Ulivi ha assunto l'iniziativa. Diadema Dinò si presenta per ottenere il via libera. E passa a condurre con un contropiede. Così Diadema Dinò a sorpresa battistrada dopo circa 350 metri di gara. Nei confronti di Dior degli Ulivi e dominio B per linee esterne. 33 il quarto iniziale. I 600 sono veloci per la categoria in 45 secchi. Se l'è un po' presa la figlia di Nadal Sheba una volta assunto il comando. E viaggia sul piede dell'1,15 quando si completano i primi 800 metri. In un minuto e pochi spiccioli. Diadema Dinò, poi Dior degli Ulivi, anch'essa ardente affiancata da dominio B. A precedere Diana Dorre, poi Dominante Dorio. Primi millimetri completati in 1,15 secchi. Diadema Dinò a comandare le operazioni. Dalle retrovie si fa notare Dea Caffa e ancora lontano dai primi. Dinamite Bonesti in terza pariglia. Adesso sta rifiatando un po' la leader. Una frazione in 16 secchi. Perde battute dominio B. E così Diadema Dinò precede Dior degli Ulivi. Si avvicina Dominante Dorio. Poi Dinamite Bonesti in anticipo su Dea Caffa. Dea Caffa lo aggira e cerca l'aggancio ai primi. Adesso la leader viene affiancata da Dior degli Ulivi. Che ha anticipato la risalita di Dea Caffa. Miglio in 2,1 e mezzo. Ancora in vantaggio Diadema Dinò. Dior degli Ulivi protesa ai suoi fianchi. Dea Caffa in terza ruota. Dinamite Bonesti va di dentro. Ingresso in retta d'arrivo. Diadema prova ad allungare a mezza di margine. Deve essere sollecitata. Affiancata da Dior degli Ulivi. Di dentro va Dinamite Bonesti. Dinamite Bonesti trova l'autostrada. Va di dentro. Dinamite Bonesti in prossimità del palo. Prendela meglio. Nei confronti di Dea Caffa e Diadema Dinò. 2,33 e qualche spicciolo sul mio cronometro. Media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1,16 e frazioni. Per il successo di questo progredito Dinamite Bonesti. Un figlio di oro puro barra e rania roba. Che dopo aver manovrato a metà gruppo ha scelto la corsia interna. Ed era quella migliore. Per il doppio da allenatore nel pomeriggio di Raffo Forino. Che interpretava personalmente il portacolori del signor Antonino Gargiulo. Corre in ulteriore progresso Dea Caffa. Che è seconda a precedere Diadema Dinò. Che ha speso tanto nella prima parte di gara. Che ha speso tanto nella prima parte di gara.